Ultimo video del 2023 Mamma mia Bello ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino L'ultimo di quest'anno Avendo ricevuto tantissime domande sotto l'ultimo shorts e tiktok Ho deciso di dedicargli un videozzo un tantino più approfondito cari miei Ed è per questo che oggi andremo a scoprire il Fortnite Rapid del Martexone Lo identificheremo proprio così Un po' come facciamo con Spotify a fine anno e vediamo quanti minuti abbiamo ascoltato di ogni singola traccia Qual è il nostro artista preferito, il nostro genere più ascoltato e quant'altro Ma quest'oggi lo faremo qui su Fortnite Per capire un pochettino che cosa abbiamo fatto in ben 365 giorni su tale titolo Prima di cominciare, un bel pollicione all'insù Codico Martex e la tienda TheFortnet da riaggiornare ogni 14 giorni belli miei E soprattutto, felice anno nuovo a tutti coloro che staranno guardando questo videozzo Ragazzi, auguri dal profondo del mio cuore a tutti 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 voi Sicuramente non li ricorderete tutti quanti Però molto probabilmente ricorderete il vostro livello massimo Quindi il proprio record ragazzi Ecco, qual è stato il livello più alto che avete mai raggiunto in gioco Grazie a Fortnite GG inserendo il mio nickname all'interno della barra di ricerca Escono tutte queste statistiche E la prima cosa che salta fuori è ovviamente il livello che abbiamo raggiunto in ogni singola stagione Ragazzi, partendo ovviamente da qui Stagione 1, capitolo 4 Ebbene sì, ragazzi, il livello 1001 in quella season era inevitabile Passando poi a Fortnite Mega E quindi la seconda stagione che mi è piaciuto un sacco Guardate qui, abbiamo ancora il Mega logo E ovviamente è sempre acceso È sempre qui alle nostre spalle ad accompagnarci in ogni singolo video Anche qui, livello 1001 Quanto è bello E stiamo già a 2002 livelli, eh Dopodiché abbiamo Fortnite Wilds Eccoci qua 1001 Ragazzi, un altro Mega Super Record Da precisare una cosa Questa percentuale sopra ad ogni immagine della stagione Dovrebbe essere il nostro playtime Infatti sì, eccolo qui Le diverse season che vengono mostrate qui Sono state piazzate a seconda della percentuale di gioco Che abbiamo avuto in ogni stagione Però ragazzi, devo dire che sono parecchio sballate Questo lo dico perché Allora, abbiamo Fortnite OG E qui non sono riuscito a raggiungere purtroppo il livello 300 Mi sono fermato al 295 Ho missato un'ondata di Salve il Mondo Credo l'ultima e boom Mi mancavano quei 5 livelli notturni Dannazione Un altro quesito che mi viene posto qui tra i video Ma anche negli shorts Soprattutto in quest'ultimi è Martex Ma come fa ed expare così tanto? Beh fratello, non esco di casa Eh no ragazzi miei No, no, no Salve il mondo in primis Quindi modalità ragazzi miei Che gioco ogni singolo giorno 30 ondate su pietralegno Un botto di XP E ovviamente deve essere affiancata A quest'ultimo anche la creativa Che sia 1.0, 2.0 Quello che volete Qua sotto nella descrizione Avete un sacco di mappe Che vi conferiranno tanti tanti punti XP nel momento in cui le giocherete Assieme a tutto ciò che ho appena detto Dobbiamo affiancargli per ultimo Il Battle Royale E quindi ragazzi miei Pubbliche a go go Assieme a queste però dobbiamo portare a casa Tante tante win nozze Fare tante kill Aprire tante chest Sia di munizioni E anche forzieri del tesoro Quelli che volete E poi alla fine Come potete ben vedere È un tutt'uno È un mega miscuglio Che porta a quel livello finale Quindi 1.001 stagionale 11% di playtime Non credo proprio brother Ma assolutamente no L'abbiamo giocata praticamente ogni giorno Quella stagione Sicuramente in proporzione alle altre season Dato che è durato un mese Eh sì Molto probabilmente Ragazzi l'avremo giocata Di meno Assolutamente sì Però qui raga Livello 711 E quindi fortnite Ultima spiaggia Mi dà un 3% Come playtime Dopo andremo a vedere altre statistiche Che il sito qui non riporta E quindi andremo su fortnite tracker Ebbene sì Quindi 1.001 Più altri 1.001 livelli Più altri 1.001 livelli Più 295 livelli E più 711 livelli Per questa stagione Ragazzi quanto è stato brutto Non fare il 1.001 In tutto ciò Abbiamo un totale di 4.001 livelli Tutti fatti nello scorso anno Ragazzi Mamma mia Ma non finisce qui perché andando su Guardate troviamo altre statistiche L'anno di Martex su Fortnite Il 2023 Vediamo che cosa abbiamo combinato Ben 505 ore di gioco Non credo proprio 505 ore di gioco Attenzione All'interno di tutte le partite giocate Senza considerare le ore su Salve al Mondo In creativa non so se vengono contate Ma credo che intenda solamente il Battle Royale E ovviamente il minutaggio completo Ad aspettare ogni singola partita Dopo che eravamo crepati tutti quanti 2.978 partite startate Di cui 912 vinte E quindi portate a casa Solo 16.417 kill E queste sono poche E queste sono poche raga Queste sono poche Più che altro ragazzi Io non mi soffermerei A vedere solamente Questi livelli Di Season e Season Perché è proprio quello che vedono Esclusivamente gli altri Vi spiego meglio Per loro Martex ha raggiunto In Fortnite Wild Fortnite Mega E magari la stagione 1 Del capitolo 4 Sempre il livello 1.001 Ok non esce mai di casa Non tocca l'erba Non sa di che colore è il sole E quant'altro Invece in quei 1.001 livelli Ci vedo Tanti di quei content Creati sul canale Giorno per giorno Ed è anche ragazzi La motivazione principale Nel senso Io ho grindato così tanto Sia perché il gioco Mi piace un sacco Ma anche perché Ero spinto ovviamente A creare contenuti Di giorno in giorno E quindi Vuoi o non vuoi Il gioco Lo devi giocare Togliamo il non vuoi Voglio e come Quindi ci sta ragazzi A mio parere è super lecito Che un content creator Raggiunga delle soglie Di livello così tanto alte E non significa assolutamente Che per forza Non debba uscire di casa E quant'altro Anche perché ragazzi Una giornata è formata Da ben 24 ore Oltre alle ore in stream E quelle che dedico Tutta la notte Ad ogni singolo video mattutino Ragazzi Poi ne rimangono altre 12 ore Dai Beh dovrei anche dormire Ogni tanto Però riesco a fare Qualcosina anche fuori Tranquilli Io sono come Batman Ragazzi Comunque sia Continuando Quella che vedete È la leaderboard globale Di tutti i livelloni Presenti su Fortnite E come potete ben vedere Le prime 5 persone Hanno raggiunto E superato Il livello 5000 Ciò significa Che in tutte le stagioni Presenti nel capitolo 4 Hanno raggiunto Il livello 1001 E significa anche Un'altra cosa Hanno utilizzato Un bug Per livellare Anche perché Ditemi tutto ciò che volete Ma nella season Oggi ragazzi Era pressoché Impossibile Raggiungere quella Soglia di livello Senza utilizzare Gli XP glitch Nonostante ciò Andiamo a spulciare Le varie pagine Perché Guardate qui Sono sceso Di una sola posizione Mannaggia a me Al posto numero 87 troverete Martex Con ben 4009 Livelli Quindi top 100 Raggiunta Ragazzi Abbiamo fatto La top 100 globale Per quanto riguarda Il nerdaggio Estremo Quest'anno A me va bene Assolutamente va bene Anche perché Quei livelli Sono tutti Legit Non è finita qui Perché come potete ben vedere Mi trovo su Fortnite Tracker Quindi andremo ad analizzare Ulteriori statistiche Ragazzi Comunque sia Sono quasi a 4000 win Dobbiamo farcela Andiamo a ritroso Però Allora Capitolo 4 Stagione 1 Eccoci qua In tale season Abbiamo fatto Ben 269 win E abbiamo avuto Una media del KD Quindi kill death ratio Di 13 e 22 5316 kill Direi Ottimo Ma procediamo Andiamo Alla stagione 2 Sempre capitolo 4 Vediamo che cosa abbiamo combinato 50% di win Ok 267 Aspettate Quanto ne avevamo prima 269 No Vabbè 267 Ok 22.15 di KD E 5800 kill All right Non ci credo pure qui 7 win in single 59 in duo 84 in 3 E 117 in squad Non giocate tantissimo Però va bene Stagione 3 153 win No Bono No Raga Quest'anno si nerda molto di più 12 win 13 win 43 win 85 win Non va bene Stagione 4 7 win Vabbè io c'ho il numero perfetto Delle win in single Ok 44 44 E 93 Il KD comunque È sempre a bomba Ragazzi Davvero Bello bello alto Season OG Che avrei voluto giocare Molto di più Ma era impossibile Fare delle win Ragazzi Perché Non avevamo Tutto questo grandissimo Movement Al quale eravamo Abituati Nelle season precedenti E quindi È andata così È andata così E poi Concludiamo Con Vabbè Quella attuale Ancora È in stato di calibrazione Il tutto Dobbiamo muoverci Stiamo ancora galoppando Ma non ci fermeremo Quelle appena viste Erano tutte Le mie statistiche Per intero Per quanto riguarda Il 2023 Invece per quanto riguarda voi Vi siete già prefissati Un obiettivo Per questo 2024 Almeno in gioco Io spero che Delle video mattudino Sia stato di vostro Gradimento Ragazzi miei Spero che abbiate passato Un bell'anno Assieme a me Qui sul canale Perché per me È stato Favoloso Uno dei più difficili Davvero Uno dei più difficili Perché Ragazzi miei Purtroppo non si è sempre In salita Però bisogna gestire Anche La discesa E questa vi assicuro Che va gestita davvero Bene 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 Come potete ben vedere Nonostante ciò Sono sempre qui con voi Con il mio sorrisetto E Codigo Martex E la tienda De Fortnite Ragazzi Sperando che abbiano Droppato qualcosina Di interessante Perché Eccoci Mi hanno ascoltato Mi hanno ascoltato Credo che sia stato Fino ad oggi Uno degli shop Più brutti Per quanto riguarda Il Winterfest Ma Ragazzi Hanno droppato Una skin natalizia nuova In questi giorni Che voi sappiate Intanto qui abbiamo Killian Che fa parte Della società Assieme al suo Costume Quindi skin Dedicata A Fortnite Lego Ci sta Ragazzi Sto backpack Proprio come una Videocamera Di sorveglianza Guarda Guarda Lì Molto bionico E vediamo Se ha degli stili Sì Ok Con O senza maschera Portamento impeccabile Precisione Implacabile Ok Vediamo qui Invece Piccone No 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 Non ci siamo Non ci siamo Ascoltiamo Quello che la società vuole La società ottiene Va bene Ragazzi Lo shop Credo che si vada a concludere Già qui Killian Vabbè New entry Finalmente Qualcosina di fresco Con tutti quanti noi E non dovremmo avere Nient'altro All right Belli miei È stato un piacere Vivere questo 2023 Assieme a tutti quanti voi Ci becchiamo subitissimo Nel 2024 Senza indugio A più tardi Belli miei Con lo scorso giornaliero Oppure in un prossimo video Sempre qui Con il vostro Martexone Alle 8 del mattino E poi quando finiranno Le vacanze Sempre alle 7 È stato un piacere Un salutone da parte mia E come al solito Un bel See ya Brothers